Quello che il Signore mi ha messo nel cuore stasera è non dobbiamo apparire come cristiani, ma essere cristiani. Dobbiamo essere, come ho detto prima, integri, come dentro o fuori, senza, sinceri, cioè sai, la parola sincero viene da senza cera, quando facevano i vasi tanti anni fa, molti anni fa, e quei vasi che erano un po' bucati, che c'era qualche buco, qualche bricciolina dentro, qualcosa di questo genere, non si sente bene, si sente bene, e cosa facevano? Per coprire il buco ci mettevano la cera, e quelli che erano perfetti erano senza cera, quando li dovevano vendere venivano separati, quelli di seconda classe erano quelli con la cera, mentre quelli senza cera erano i buoni, quelli che erano perfetti, che non avevano perdite. Noi dobbiamo essere sinceri con il Signore, e perciò se ci mischiamo con il sistema del mondo, che vogliamo solo apparire, vogliamo solo l'immagine, allora non va bene, dobbiamo migliorare. Leggiamo insieme il Matteo 3,3, che è molto importante. Leggiamolo insieme, dice così, Matteo 3,3. In Matteo 3,3 guardiamo insieme quello che dice. Qui viene legata questa profezia ad un araldo, a un banditore, a un messaggero, che anticipa il re e dice di preparare, spianare, sgomberare la strada perché arriva il re. E questo messaggero ha il messaggio potente come quello di Elia, parliamo di Giovanni Battista. In secondo re, capitolo 1, verso 8, guardiamo Elia, che è una immagine, un messaggio potente come quello di Giovanni Battista, o meglio, Giovanni Battista aveva un messaggio potente come Elia. In secondo re, capitolo 1, verso 8, dice così. Quelli gli risposero, era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse, e Elia, il tisbita. L'idea è un rozzo indumento cinto con una cinta di cuoio. In Matteo 7, 15, così guardiamo l'importanza di un messaggero che non è, non guarda l'apparenza, ma porta la sostanza. E il Signore dice, guardatevi dai falsi profeti, quando vengono verso di voi in vesti da pecora, ma dentro sono rupi rapaci. In altre parole, questo insegnamento ci aiuta a comprendere che noi non dobbiamo guardare la forma, ma dobbiamo guardare la sostanza. Non dobbiamo guardare il predicatore, ma dobbiamo ascoltare il messaggio, per comprendere se è da Dio o meno. Poi se c'è anche la forma, meglio. Ma se non c'è la forma, dobbiamo ascoltare il messaggio con attenzione. Infatti, sia Elia che Giovanni Battista avevano la sostanza, ma non avevano la forma, perché realmente erano così. Sì, tale indumento era tipico dei profeti. Infatti, in Matteo 3,4, continuiamo a leggere, Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, come se si fossero parlati, e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Giovanni Battista, venuto nello spirito e nella potenza di Elia, questa descrizione ci aiuta a prevenire in questa era moderna che guardiamo all'apparenza non solo verso l'altro, ma anche noi stessi. Gesù ci mette in allerta e in guardia di stare attenti, prima per noi, perché possiamo essere anche noi che dimostriamo solo l'apparenza come il fico, solo foglie e niente frutti. E poi anche guardare a chi ci porta il messaggio, da chi riceviamo il messaggio. In Matteo 23,25 dice così il Signore, guardiamolo insieme, Guai a voi e si riferisce a chi portava sì messaggi, scrive i farisei, portavano anche loro messaggi a maestramenti, ma erano messaggi ipocriti, perché guardavano più l'esterno che l'interno. E così agivano e così ammaestravano l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro erano pieni di rapina e di intemperanza e dobbiamo vigilare. E nel cuore che risiede l'ipocrisia, cioè che cos'è l'ipocrisia? Fingere. Anche l'umiltà è una finzione, un falso per così dire. C'è tanta gente che viene con dolcezza, piano piano, sembra proprio che è proprio così umile quando parla, però cerca di tirarti in una trappola per poi farti vedere la realtà di com'è. Noi dobbiamo vigilare. La finzione è un falso. Giovanni Battista dice spianate la strada e fate entrare il re, cioè Cristo. Nel verso 26 leggiamo insieme, dice fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Gesù queste persone che fanno la pulizia così dice che sono ciechi, che non vedono perché vanno così ad aria compressa. E nel verso 27 ci dà un'immagine guai a voi scrivi e fariseo ipocriti perché siete simili al sepolcro imbiancato che appaiono bene di fuori ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Sepolcro imbiancato ma se lo apri devi scappare prima il naso e poi se lo apri un poco di più anche gli occhi vedono cose terribili. Signore aiutaci quando il Signore parla di questo non ci vuole fare scuola di che succede nei cimiteri ci vuole dire che noi possiamo essere così fuori e dentro tutto il contrario di quello che siamo fuori. continuiamo con Giovanni Battista nel capitolo 3 verso 7 Giovanni quando vede arrivare farisei sadducei questi religiosi anziché dire ma che bello che siete venuti oh quanto onore non sapeva fare ciancerie vedendoli li vide venire al battesimo di ravvedimento ed ecco disse loro razza di viperi chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura vedendo dice non venite anche a battezzarvi e dentro restate sempre ipocriti in parole diverse dice adesso vedete che tutti vengono venite pure voi perché buona parte in tre quarti di israele tre tribù che si dirigevano verso il deserto per andare ad ascoltare Giovanni Battista perché erano tutta la Galilea la Giudea e Gerusalemme andavano e loro si mettevano nella folla ma Giovanni Battista dice guardate non è che voi vedete che tutti vengono venite pure voi e poi restate come siete nel verso 8 continua perché noi molte volte siamo trascinati nel vedere come fanno gli altri facciamo noi ma qui c'è un monito fate dunque dei frutti degni del ravvedimento il ravvedimento vuol dire abbandonare il peccato e rivolgersi a Cristo per essere perdonati nel verso 9 leggiamo poi come raccomanda caldamente e lo fa pure con noi non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abramo come noi pensiamo qui ancora c'è gente che pensa che perché appartiene ad una religione è salvato o perché appartiene ad una chiesa è salvato no perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere i figli di Abramo abbiamo ancora questa fissazione molti professano di appartenere ad una grande chiesa o a una grande organizzazione e pensano di essere salvati perché appartengono a quella grande chiesa noi siamo salvati chiariamole queste cose perché se no inganniamo noi stessi noi siamo salvati se Cristo ci ha salvati perché il Salvatore è Gesù Cristo se noi non andiamo a Lui noi non siamo salvati abbiamo l'ira di Dio sopra di noi questo dice la scrittura non pensate dovete essere sinceri lasciate l'ipocrisia e tutto quello che non piace a Dio dovete escluderlo questi sono i frutti di ravvedimento vero ravvedimento abbandonare il peccato e legarsi strettamente per camminare con Dio tutto ciò che a Dio disgusta tutto ciò che a Dio non piace non deve piacere neppure a noi in primo Tessalonicesi ci aiuta a comprendere meglio questo concetto primo Tessalonicesi 1.9 dice Gloria sia resa a Dio per la bella parola che ci dà perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti noi convertire vuol dire essere cambiati cambiare strada muoverci al contrario di come camminavamo vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio non un Dio qualunque Dio vivente è vero la salvezza comporta che lasciamo il peccato lasciamo gli idoli ci volgiamo a Cristo per servire Cristo per servire Dio abbandoniamo il culto degli idoli e serviamo il Dio vivente dobbiamo sapere che Dio guarda il nostro cuore perciò dobbiamo smantellare il nostro pensiero dell'apparenza perché questo è un pensiero farisaico è un pensiero dei falsi religiosi della falsa religione che si aggiustano fuori e dentro non funzionano in primo Samuele abbiamo un principio che è meraviglioso lo avrei sentito tante volte che Dio guarda il cuore e non guarda l'apparenza in una situazione particolare dove il profeta Samuele che aveva la la veggenza delle cose spirituali anche lui fu ingannato cioè un profeta che va perché ha gli occhi di vedere oltre nella casa di Isai il padre di Davide perde la visione quando cominciarono a entrare i figli di Isai per ungello re ognuno che arrivava era bello piazzato un fusto diremmo oggi e come lo vedeva entrare sarà questo sarà questo sarà questo vedi noi possiamo essere incarnati anche se siamo dei spirituali abbiamo un esempio di Samuele e perciò dobbiamo sempre stare in guardia e vigilare prima di tutto su noi stessi e poi sugli altri infatti in primo Samuele capitolo 16 verso 7 dice così non vada ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo il Signore non vada infatti il Signore non vada ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo noi guardiamo all'apparenza ma il Signore guarda al cuore il concetto di cuore nella lingua ebraica non è il cuore papapapà questo il nervo il muscolo che no il concetto cuore vuol dire la nostra volontà guarda i nostri desideri guarda le nostre emozioni guarda le nostre passioni guarda la nostra morale la nostra vita si esprime fuori poi come viene costruita dentro in realtà quando Gesù diceva e dice voi pulite il fuori del bicchiere voi pulite il fuori del piatto non è che stava facendo una lezione di come lavare i piatti o lavare i bicchieri è l'esempio che la figura della nostra vita che noi è facile che guardiamo molto fuori e dentro no spendiamo un sacco di tempo per i fuori e dentro niente e questo è grave per un credente che coltiva fuori e non coltiva dentro dobbiamo stare attenti perché molte volte ci prepariamo più per andare al culto come ci dobbiamo vestire quale veste mettere l'armadio lo giriamo sotto sopra metto questo metto quest'altro no aspetta me la metto mi guardo nello specchio poi questa non va bene un'altra volta ci spettiniamo continuiamo spendiamo poi il make up come lo dobbiamo fare e poi corriamo al culto e non abbiamo neppure un quarto d'ora pregato il Signore questo vuol dire guardare l'apparenza e tralasciare il dentro che succede quando tralasciamo il dentro fuori andiamo bene ma dentro c'è la guzza dentro c'è il morto perché l'esempio del del cimitero che il Signore ci ha portato l'esempio dal dalla tomba che è dentro puzza allora abbiamo problemi il Signore ci deve aiutare veramente imbiancati i sepolcri imbiancati da ogni fessura però viene fuori la puzza Gesù legge il cuore e dice stiamo attenti in Matteo 12 34 dice così razza di vipere come potete dire cose buone essendo malvangi poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla il Signore aiutaci li possiamo aggiustare però poi viene fuori quando stai un poco di più con una persona ti accorgi ma Giovanni Battista dice la stessa cosa a quei religiosi artificiali perché chi ha la mente di Dio le persone spirituali sanno leggere non erano insieme Giovanni Battista e Gesù quando predicavano ma Giovanni Battista nel capitolo 3 verso 7 che leggeva nel cuore dei farisei dei religiosi artificiali artefatti falsi nel verso 7 del capitolo 3 di Matteo guarda come fa la stessa foto ma vedendo molti farisei e sadducei venire al battesimo al suo battesimo disse loro razza di vipere chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira a venire Giovanni Battista e Gesù hanno la mente di Dio vedono come vede Dio e dichiarano come siamo il messaggio da Dio fa la radiografia perciò noi dobbiamo stare attenti al messaggio perché il messaggio ci penetra e dà il potere di trasformarci perché la parola di Dio è affilata è come una spada a due tagli che scende dentro di noi è lì che va a fare la separazione e dice qui c'è del veleno togliamolo fuori qui c'è del marcio togliamolo fuori Giovanni 4 18 guardiamo come il Signore fa la radiografia alla donna che era vicino al pozzo disse vai a chiamare il tuo marito lei disse ma io non ho mariti Gesù la fa entrare nella stanza della radiografia e gli fa la radiografia e dice perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito ciò che hai detto è vero vedi la radiografia noi credenti dobbiamo sapere che il Signore ci fa la radiografia fuori possiamo far capire tutto ma noi dobbiamo stare attenti dentro perché se curiamo dentro fuori va da sé fuori si manifesta da sé perché se il cuore abbonda di buono viene fuori il buono e perciò dobbiamo stare attenti molti credenti pensano che Dio non c'è si preoccupano più del pastore che di Dio più del monitore che del Signore più del prete che di Dio non è così noi dobbiamo preoccuparci prima di Dio e poi il resto va da sé nel Salmo 139 4 dobbiamo sapere queste cose così sappiamo che siamo sempre sotto i raggi divini poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu Signore già la conosci appieno i nostri pensieri mentre si formano le idee lui sa tutto nel cielo si parla col pensiero non con la bocca la bocca serve per noi qui in ebrei capitolo 4 verso 13 ci aiuta a comprendere questo concetto dice non vi è nessuna creatura nessun essere umano che possa nascondersi davanti a lui ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto ognuno di noi fratelli come credenti queste cose sono l'abc di quando già cominciamo a camminare col Signore vuoi vedere che sono passati anni e ancora non sappiamo ci sono credenti che sono passati gli anni e ancora pensano così che devono stare attenti a che pensa la gente che pensa quello che pensa quell'altro che pensa noi ci dobbiamo preoccupare che pensa Dio quando macchiniamo dentro perché lui vede noi fuori possiamo coprire tutto ma dentro il Signore ci guarda bene anche quando era in terra Gesù aveva questa capacità come abbiamo visto con la donna al pozzo che lei disse non ho marito e Gesù avrebbe dovuto dire a quella risposta poverina allora ti devo cercare un fidanzato ma Gesù non disse così se tu ne avevi avuto cinque tu stai convivendo da molto tempo Gesù anche quando era nel corpo sulla terra aveva questa capacità di fare la radiografia a noi esseri umani immaginiamo adesso che è nel cielo in Giovanni capitolo 2 verso 25 ci dice come lui fa le radiografie a una macchina speciale leggiamo insieme perché non aveva bisogno della testimonianza di nessun uomo poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo li mette in massa e li vede come una sola persona che sono credenti artificiali erano delle persone che cominciavano a credere però Gesù non si fidava perché sapeva che erano era un fuoco di paglia noi non dobbiamo essere un fuoco di paglia quando si dice un fuoco di paglia che cosa vuol dire che un momento c'è e un momento non c'è più ma se per caso ti viene la voglia di arrostire un po' di carne con un fuoco di paglia e lo appoggi perdi anche la bistecca perché sprofonda nella cenere e non te la puoi mangiare doppia perdita non solo non è fuoco ma perdi anche quello che tu pensi di poter poi mangiare resti di giù ognuno di noi fratelli come credenti dobbiamo sapere fin dai primi passi che facciamo con il Signore della nostra fede Gesù è anche quando era nella carne aveva questo modo di vedere egli è l'onnisciente lui sa tutto di tutto di tutto la sua parola ce lo dice perciò noi dobbiamo rettificare dentro nel Salmo 139 verso 7 dice così dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito dove fuggirò dalla tua presenza si riferisce allo Spirito Santo questo ci deve far capire che dimora in noi e già dentro di noi il nostro comportamento ipocrita contrista allo Spirito Santo nell'Antico Testamento era un modo di fare del popolo di Dio che Dio non apprezzava infatti nel libro di Isaia nel capitolo 63 verso 10 Dio si lamenta che questi suoi figli il suo popolo furono ribelli perché contristavano lo Spirito Santo perciò egli si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro così fecero queste cose sono scritte per essere di ammonimento a noi e dobbiamo stare attenti ma la storia puntualmente si ripete all'inizio della Chiesa quando inizia l'era dello Spirito che lo Spirito doveva avere il primo posto nel cuore dei credenti e infatti nel cuore di Stefano aveva il primo posto perché era ripieno di Spirito Santo ma quelli religiosi sempre i capi religiosi sempre quelli che professano più di tutti la religione nel capitolo 7 degli Atti verso 51 puntualmente fanno la stessa cosa al che Stefano pieno di Spirito Santo dice gente di collo duro e incirconcisa di cuore e di orecchi voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri così fate anche voi bene ora che è lui che ci porta e ci guida a noi viene detto di stare attenti nel capitolo 4 dall'Epistola ai Filippesi nel verso 30 viene detto anche a noi stasera questo serve per noi dal non ripetere gli stessi errori leggiamo insieme capitolo 4 ci viene detto sorella leggi insieme con me per amore del Signore non rattristare lo Spirito Santo fratello non rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione cioè il sigillo che il Signore ha messo dentro di noi ci deve accompagnare fino al rapimento se noi lo contristiamo e non resta più come nostro accompagnatore noi ci troviamo esattamente come quegli ipocriti restiamo con la forma senza la sostanza noi siamo stati suggellati con lo Spirito Santo leggiamo nella stessa Epistola nel capitolo 1 verso 13 a 14 dice così in lui voi pure dopo aver ascoltato la parola della verità il Vangelo della vostra salvezza avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso guardiamo nel verso 14 il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria in Matteo 12 35 dice così leggiamo perché la parola di Dio ci forma l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie l'uomo buono questo verso è supportato da un altro esempio nel verso 33 leggiamolo l'uomo buono equivale all'albero buono l'albero buono è buono pure il frutto o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto perché dal frutto si conosce l'albero il più grande profeta Giovanni Battista ci dice nel capitolo 3 verso 8 di Matteo fate frutti degni del ravvedimento sì è evidente non dobbiamo fare solo bla bla e non dobbiamo guardare solo l'esterno dobbiamo portare frutti buoni portiamo il frutto appropriato del vero cambiamento l'abbandono del male il peccato è un ritorno a Dio per servire il Dio vivente e mo credo che il fratello sia arrivato e continua il fratello così ci incoraggiamo a vicenda è un concetto qui un pensiero là un altro insegnamento qua piano piano ci formiamo e cerchiamo di piacere al Signore quelle cose che impariamo dalla scrittura cerchiamo di metterle in pratica così cresciamo se non restiamo involontariamente anche noi dei scrivi dei farisei dei religiosi che siamo belli fuori e siamo come un sepolcro dentro il Signore non vuole sepolcro vuole cuori purificati dal sangue di Gesù Cristo Alleluia di Gesù Cristo alleluia di Gesù Cristo di Gesù Cristo